Ben tornati a That's Italia. Senti Pino, secondo te qual è il paese più moderno dell'Europa? Beh, per più moderno forse quello che accoglie di più, quello che non ha pregiudizi, quello che è per i diritti civili, social... L'Olanda. Ma meno male che hai detto Olanda, perché il nostro ospite d'oggi arriva proprio da lì. No. E Martin Van Alderen, che è il corrispondente in Italia del principale quotidiano The Telegraph. Ma dall'Olanda come vedono o come vedete l'Italia e gli italiani? L'Italia viene vista dagli olandesi come un paese dove naturalmente l'influenza della Chiesa Cattolica è molto forte, dove c'è il Papa. Poi quello che mi colpisce è che mentre gli olandesi, almeno benestanti, pensano soprattutto alla mafia o alle criminalità, gli olandesi più benestanti invece pensano a tutte le cose di gusto. Quindi alla moda, al cibo? La moda, tutto quello che ha a gusto, diciamo. Quindi l'enogastronomia, il vino, eccetera. Quindi le cose positive. Per cui cose che appartengono anche al passato. Ma non solo, perché anche le cose di moda, eccetera, sono anche cose di oggi. Ah, vedi, vedi quanto è democratico. Qui ho un pezzo dedicato proprio all'Italia, scritto da lei, no? Sì. È scritto da lei. Prova lei. Umbria, la regione. Et grune hat van Italie. Ho detto bene? Più o meno. Il cuore verde dell'Italia. Come lo diresti tu invece? No, ma è abbastanza simile, non è male. No, dillo, dillo. Et grune hat van Italie. Ah, mi piace sentire l'olandese. Dicevamo prima... Questo non è originale per un italiano, quando si dice l'Umbria è il cuore verde dell'Italia, però per gli olandesi, io lo dovevo scrivere per gli olandesi, e gli olandesi, insomma, forse non tutti conoscono l'Umbria. Appunto, è una regione che stanno scoprendo. Quindi lo dico per... Anche molti giornalisti, insomma, gli italiani titolano un pezzo sull'Umbria dicendo il cuore verde dell'Umbria. Sì, ma qui non serve molto originale, ma per un giornale olandese si può fare. Trovo invece che sia abbastanza originale. L'ho trovato anch'io, l'ho scoperto anch'io l'Umbria, quindi... La conosci? Eh, ho la casa in Umbria, ho partorito in Umbria, insomma, è una regione che mi sta molto a cuore, perciò ottima scelta, ottima scelta. Torniamo all'Olanda, prego, Filippa. Sì, no, infatti sei sposato qua, vivi qua da 22 anni, la moglie è italiana, com'è convivere con l'italiana? Lo chiedo anche per me, visto che io ho il compagno italiano, quindi vedere lo straniero, l'uomo e la donna italiana, perché aggiungo io, io dico sempre moglie, buoi dai paesi tuoi, mosso cavoli tuoi. Quindi, difficoltà, puoi essere onesto qua. Sì, infatti non ci sento nessuno, questo è vero, assolutamente. Questo è vero? No, no, io sono molto felice, insomma, sono felice che anche lei continua a sopportarmi. Questa estate saremo sposati da vent'anni. Sì, la cosa è incredibile, ancora riesce a sopportarmi, quindi sono molto felice. E vi siete sposati in Calabria, io so. Sì, siamo sposati lì, c'erano dieci portate di cibi, proprio un pranzo incredibile, enorme, che avevamo all'epoca, mi pare, 150 invitati e alla fine questi invitati dicevano, è stato un bel matrimonio anche perché eravamo in pochi. E infatti, questa diceva la tradizione italiana, l'oppurezza, l'abbondanza, il mangiare, le tradizioni. Prima dicevamo il vostro paese come Faro, Faro che per noi significa libertà, accoglienza, ma è davvero così? Ma è molto cambiato in Olanda, una volta l'Olanda aveva le rossessioni di essere un paese un po' libertino da tanti punti di vista, da alcuni punti di vista questo è rimasto. Siamo un paese schiattamente liberale, che vuol dire che quello che ha in molta importanza è l'autoresponsibilità della persona. Questo è un concetto proprio del liberalismo per eccellenza. Per fortuna sulle questioni dell'onsensualità siamo stati all'avanguardia, quindi se qualcuno ha la sua preferenza diversa rispetto alla maggioranza... Sì, l'accoglienza delle diversità e il fatto che non le si fanno sentire diversità. Sì, ecco, questo credo che sia molto importante, è giusto, però su alcuni fronti ci sono stati alcuni cambiamenti negli ultimi tempi. Beh, ultimamente appunto l'Olanda come noi non siamo soltanto pizza e mandolino, voi non siete soltanto tulipani e zoccoli, ma siete appunto tutto questo che lei sta dicendo, ma anche insomma ad Amsterdam non si può più andare, noi turisti, noi stranieri, il visitatore non può più venire dal primo maggio, non è entrata in vigore una legge per cui non posso venire e comprarmi la droga leggera, la shish. Prima c'erano i coffee shop famosi in tutto il mondo che attiravano persone. Scusami, ma aggiungo anche, forse quindi c'è un pericolo di perdere il turismo? Sì, un certo tipo di turismo, forse non era turismo più gradito, detto onestamente. Adesso da poco, mi parla del primo di maggio, nelle zone di confine con Belgio e Germania i coffee shop non possono più dare hushes agli stranieri e dal primo di gennaio l'anno prossimo vogliono che questo sia steso a tutta l'Olanda. Ma siamo al tramonto di un'era per cui... È vero, sì, in un certo senso sì, questo è successo dopo la pressione degli altri paesi che hanno sempre avuto un'altra politica al riguardo e parliamo qui naturalmente anche di stranieri e quindi loro lo volevano. Inoltre quello che dicevo prima non era sempre il turismo più gradito, insomma, quindi anche penso che adesso verrà un altro tipo di turismo. Guarda Filippa cosa ho trovato, talmente moderni che già nel 1987 un personaggio italiano che adesso è una superstar internazionale, aveva fatto colpo sugli olandesi. Roberto Benigni, molto famoso anche in Olanda. In Italia, voi siete molto conosciuti, non c'è? No, in Italia non ho mai fatto nulla. Ma lui è famoso in Olanda, ha una buona riposizione anche da noi, anche la vita bella era un film... Vabbè, sì, un film che ha conquistato il mondo. Ma insomma, di questa nostra Italia cosa arriva da voi? Bersconi è stato ovviamente l'italiano più conosciuto, poi giocatori di calcio, alcuni cantanti, come prima era Pavarotti, o Rosselli, o Rosamazzotti. Poi c'è un altro famosissimo italiano, un architetto, Renzo Piano. Sì, Renzo Piano, sì, questo è il centro scientifico più grande dell'Olanda, che si trova ad Amsterdam, che è molto vicino alla stazione centrale di Amsterdam. E quando vai in treno ad Amsterdam lo vedi anche con un'ottima collocazione. Renzo Piano, infatti, è un architetto famoso, rinomato in tutto il mondo, anche da noi in Olanda, assolutamente. Ma perché vi chiamano i Paesi Bassi? Ah, sì, questo è... Siamo un paese, in un'attività molto basso, no? Perché il Gran Parti ci sono anche polder. Per cui io sarei benissimo da loro. Non volevo dirlo io, ma ti hanno dato il passaporto onorario. Lagerbach. Grazie mille a Martin Van Alderen, grazie mille per essere passato da noi ad Azitalia, e noi ti lasciamo con questa immagine dell'Olanda.